Ciao, sono Alito Lina, io che parlo come se qualcuno dovesse conosce me. Non so come si fa una intro su YouTube, quindi sigla. Sì, ce l'avemo la sigla. Dalla regia, ce l'abbiamo la sigla? No, non ce l'abbiamo la sigla perché l'abbiamo aperto adesso il canale e io queste cose non le so fare, non so pratica. E non ce l'avemo la sigla, non siamo organizzati. Vabbè, da regia un ritornello per far finta che siamo professionali, una cosa del genere. Ho chiesto su Instagram di fammi qualche domanda. Io non so se devo guardare qua o devo guardare di là, nel ca... vabbè, guarda tutte e due le parti. Dicevo, ho chiesto su Instagram di fammi qualche domanda sui cazzi miei. Non che a qualcuno interessi, però dato che quando se tratta dei fassi cazzi dell'altro io so sempre così, dico vabbè. E lo fate pure voi. Non ditete no, sciamannati che non siete altro. Vai iniziamo con le domande. Non te l'ho chiesto? Che poi alla fine mi ha chiesto. Chiede, sei mai stata denunciata, andata in prigione, hai fatto qualcosa di illegale? Allora, non so se si può intende come qualcosa di illegale. Una volta un amico mio si compra una bomboletta spray, quando c'hai 13 anni l'amore te sembra, no? Allora lui tutto preso, pia e scrive su un cancello a carattere cubitale. Il cancello è una persona che non conosceva. Marta ti amo. Io stavo là a fare il capro espiatorio. Poi, se siamo accorti che ci stavano le telecamere sopra, quindi ci hanno sgamato. È arrivato il padrone dei casi e poi il resto è storia. Le tue occhiaie sembrano lividi, lo sono. Faccio box nel weekend. E voi pure te? Sono qui. Viecce. Se tuo figlio ti dicesse, mamma sono gay, tu che discorso gli faresti? Eh, questa è difficile, gli direi, mo so cazzi tua, in tutti i sensi. Amo, è difficile al giorno d'oggi, ancora c'è un sacco di omofobia, parliamoci chiaro. Magari da qui a 10 anni, 20 anni, gli cambieranno le cose se spera. E poi cercherete capire se è più tipo da Harry Styles o Chris Evans. Ti, ti de, ti ah, ti depili lavaggi. No, so tipa da Bosco dei Cento Acri. Con Winnie the Pooh, Tigro, tutta la banda. Qual è stata la cosa più bella dell'evento di About You, oltre a Carla di Elite? Per chi non lo sapesse sono andata all'evento di About You, dove c'era Carla di Elite. Nasta, un pezzo, tutto un pezzo, lei era tutto un pezzo di figa. Cioè, bellissima. Allora, direi, direi Mariano. No, è il mio Mariano, Mariano Di Vaio, bono come il pane. Hai sempre avuto questa autostima, oppure sentivi giudicata all'inizio su TikTok? La realtà è che l'autostima sta sotto le mie scarpe. Però il fatto è che io, con l'opinione della gente, ci faccio molto poco. Amo vi racconto questa. Prima di TikTok mi ero aperta un canale YouTube, perché mi è sempre piaciuto fare i video. E nel paese mi diedero della pagliaccia. Allora io ho presi queste parole e me ce la vai, tutto il Bosco dei Cento Acri. E adesso sto qua, tu mi stai guardando. Se ti piace quello che fai nella vita, l'opinione dell'altri... Mi nonna dice, fino a quando non vai rubante devi vergognare di niente. Capelli tinti o naturali? Ma nel 2022 ancora sei famose domande? Naturali. Sono mia, lo so io i rosci tuo chiuso che mi sono beccata, dalle stronzette di scola. Adesso tutte rosce so queste. Quale nome avresti voluto dare a tuo figlio, Emily? Se fosse stata femmina, corseno di poi, meno male che era maschio. Perché la sapiamo tutti la fine di Emily. Faresti mai incontri con i tuoi follower? No, perché ci avrei paura di rimanere là da sola. Tipo il tizio che cerchia di vennega alla roste a Via del Corso, tutto solo là. Che progetti hai per la famiglia? Vorresti avere un secondo figlio? Assolutamente no. Zero voglia di ritirare fuori in altro armadio dai miei Cento Acri. Però capisco anche il mio compagno. Insomma, quindi sì, ma sta botta mi devo non sposare prima perché sono stata stupita una volta. A seconda no. Il papà di Mattias? Ha contatti con voi per forza di cose? Io dico sempre l'importante è che ci sia per Mattias poi, per il resto. A quanti è Nibale la prima volta? Nibale è quello che mi viene a portare i surgelati il martedì. Che gli devo chiedere? Pensi che il lavoro social sia un vero lavoro oppure un hobby? Non lo so, chiediamolo alla regia che sta montando questo video. Eccomi, dalla regia. Sono due ore e un quarto che sto montando questo video. C'ho l'occhi che mi se stanno a tamponà. Adesso pio il computer e lo frullo giù dal balcone. Sinceramente, Mattias, pensavo fosse tuo nipote. E invece me lo ricordo bene che non è mio nipote perché appunto, lo stavamo dicendo prima, l'ho tirato fuori dai miei 100 acri. Ma un armadio, calcolate, pesava quasi 4 kg. È stato... Non si dimentica un'esperienza del genere. Non è vero che ti dimentichi il dolore del parto perché io ce l'ho ancora qua. Ho comunque puntata e incentrata sulla mia baggigia. È stato bello, supportatemi con un like se ve va. E soprattutto se volete altri video. E seguitemi perché l'ho aperto mo' sto canale. E quindi... E quindi niente. Se vi va. Pure se non vi va. Seguitemi. Grazie. Ciao. Alla prossima. Non si sa. Su TikTok mi trovate sicuro comunque. Ciao.